Un balcone, un palo che sostiene i cavi dall'alta tensione, una scivola, poi incroci pericolosi, pendenze da brivido, salite da giro d'Italia è come se non bastasse la creazione di nuovi sensi unici che di fatto hanno reso avventuroso lo svincolo delle vie interessate. Sembrerebbe quasi il percorso di una gincana e invece sono gli elementi compresi nella nuova pista ciclabile, un corso di realizzazione nella quarta municipalità e che nelle intenzioni dovrebbe collegare la stazione metropolitana di Cibali con via Santa Sofia e quindi il Policlinico e la cittadella universitaria. Un'opera che ha suscitato un'ondata di protesta all'indirizzo dell'amministrazione e che da servizio rischia di diventare pesante di servizio soprattutto per i residenti delle vie Bergamo e Varese. Sto cercando attraverso una raccolta firme far capire all'amministrazione che quando si sbaglia si può anche recuperare. Abbiamo dato un senso solo allo sfogo di via Bergamo e stiamo creando un grosso problema in via Santa Sofia dove già si doveva creare una corsia preferenziale per i mezzi di soccorso. Se accorciamo quella gareggiata, diamo un grosso problema anche al pronto soccorso del Policlinico. Ma è assurdo quello che hanno fatto, cioè vi rendete conto che qua ci sono un sacco di aperture, di ingressi, uno scende anche a piedi con qualche bicicletta o qualcuno arriva e ci hanno tolto quella possibilità uno sfogo per uscire. Noi qua se succede qualche cosa siamo intrappolati che abbiamo solo questa uscita perché verso la via Santa Sofia non possiamo più andare. E poi l'attraversamento della circonfallazione, già non si cammina la circonfallazione, cioè non si può continuamente interrompere il flusso. È stata tolta la possibilità a chi prendeva la metropolitana di posteggiare perché non potendo posteggiare più la gente arriva, manda un po' di benedizione e se ne va perché giustamente non può. Che senso ha la metropolitana qui e non poterle posteggiare perché altre parcheggi non abbiamo. Noi in via Bergamo eravamo ingabbiati, infatti motivo per cui io avevo optato anche di vendere la casa e andarmene. Poi il fatto che hanno installato la freccia di senso obbligato da quella parte ci ha ulteriormente restretto proprio il nostro raggio d'azione, la nostra libertà. Adesso se tu devi andare a fare 50 metri qua in direzione della ferrovia devi metterti in via Varese per correre la circonfallazione, andare al ritorno, prendere la rotonda, cioè fare circa mezz'ora di strada per fare 50 metri di tratto. La singolarità dell'opera poi diventa evidente nel tratto che interessa, via Santa Sofia. Il tratto di via Santa Sofia è dove ci sono diverse perplessità da parte del quarto municipio che tra l'altro non è stato neanche chiamato in causa dall'amministrazione centrale. Basta pensare che c'è un balcone dove dovrebbe nascere la pista ciclabile, basta pensare che c'è in prossimità della curva un palo della luce e tra l'altro c'è un dislivello abbastanza evidente dove non può essere neanche sistemato perché se no non possiamo più fare entrare la persona che è proprietaria di questa casa nella propria casa.